Ho preso la muta pure qua Devo andare in bagno giuro Ciao ragazzi sto facendo una sorpresa a Chiara Questo è un video molto improvvisato siamo in mezzo alla strada Perché siamo appena arrivati Davanti alla sorpresa di Chiara Ma lei non l'ha vista Siamo quasi vicini Quindi ora tieni questo E vuoi vedere la tua faccia Mentre lo vedi tienilo bene E non tappare il volume perché ha il microfono Io c'ho paura Allora stiamo arrivando vediamo un po' se riesco A entrare nel parcheggio Dai che paura Non so dove guardare ho paura Ho paura guardarmi intorno Hai letto hotel? Forse è un hotel Vabbè è sicuro un hotel perché dormiamo qua Siamo a? Perugia Siamo a Perugia ragazzi Allora io lo vedo Cosa? C'ho paura dove devo leggere? Ah il parcheggio è quello? Sì il parcheggio è quello Cosa è questa roba? In questo albergo si sta? Felici e fondenti Perugia Baci perugina No? No C'hava senso Da qui sembrava quasi tipo Bo Di entrare in un museo Siamo in un museo? No Allora ragazzi siamo arrivati Lei non ha ancora capito Già io però prima gli ho detto Quando eravamo da Sisi Ti ho detto Mi porterai in una fabbrica di cioccolato Ma leggi lì E lì infatti Ecclusca Ciocco Hotel Ciocco Hotel E mi ha detto una bugia A me sì Però quello al latte Non fondente Siamo a Ciocco Hotel Ci hanno dato già Una barretta Però lei non ha ancora visto niente Non ha capito Che cosa? Non hai capito Oh che cosa? Non ha capito Però io voglio il cioccolato al latte C'è tutto il cioccolato che vuoi Non ha capito Glielo dai un ciocco consiglio? Ora glielo do Glielo do Prima guardiamo la stanza Il nostro piano è il piano fondente Mi metteva ora Io voglio Vabbè va bene Fondente fa meglio Ma no vabbè La camera è scona fondente Non è vero questo Vediamo un po' Come la stanza Oh Ma sto male Tutto a tema cioccolato Ma sto male Il mio di aprieto mi viene Cioccolata calda dopo Ma sto male Sì ma ora ti faccio vedere la cosa bella Che ancora non lo sa Ma cos'è la cosa bella? Eh ora te la faccio vedere La lampada è intanto molto bella Ma che figata Già inizia a mangiare E domani ti ho detto alla colazione La cosa principale Ma inizi già a mangiare Guardate l'armadio Dove la facciamo? Sono senza maglia No Vabbè Dammi un pezzo E poi vero Non mangi solo te Scusa Un attimo C'è una barretta gigante Adesso andiamo allo store di cioccolato Ma che È finto Ma non è finto Fino Vieni Guarda Dai Hai sporcato la porta Guarda Faccio la foto Ora andiamo allo store Ma questo è cioccolato? Sì non toccare C'è scritto Non tocco Però è incredibile Secondo me non è al cioccolato Ma no Cioccolato non come stiglie Ma cosa fai? Alzati Sai lì cioccolato È cioccolato? Sì Ma che figlio Cioccolato in corso Che figata Potrei toccarlo No non si può Non toccare Questo ragazzo È una vasca Pile di cioccolato Non toccarlo Andiamo a provare La pasta al cioccolato Ti prego Non lo so Proviamo la pasta al cioccolato Non c'è paura Le penne al cacao Ma comunque Non abbiamo ancora scelto Cosa prendere Ma prenderemo sicuramente Guarda Io prendo sicuro Un ricordo Qualcosa Sì? Sì Ok Questo cos'è il cioccolato in scatola? Questa è una lattina Ma perché tocchi tutto? Ma perché non posso toccare? Come bambini Questo è il mio cioccolato Perché tu sei chiarina Fragolino Che li devo riprendere? Mi ha detto La di riprendere Perché volevo dirvi Che questi Fanno schifo Non è vero No Non è vero Sono buonissimi No In realtà è buona Però la parte della nocciola No Ma perché ti piace la nocciola? Tutto il mondo piace È la cosa più buona C'è il croccante Cioccolato senza glutine Cioccolato senza glutine Ho la febbre Prende un po' di ciocopirina Ragazzi Io pensavo fosse legno No Penso Cioè penso sia cioccolato Anche perché se no Non ci sarebbe scritto Non toccare Cioccolato E poi è muso E ha un odore forte Prende un po' di rinno Raga me l'hanno spoilerato La colazione Che me lo volevo tenere di nascosta No raga Io mi sento male Ve lo giuro Ho preso una multa pure qua Eh Te l'ho detto Ci devi andare piano col cioccolato Se no ti danno una multa Abbiamo preso la Ciocopirina Che sarebbe la tachipirina E oltretutto c'è la vitamina A e C Quindi molto interessante Vabbè ma comunque cioccolato L'ho aperto Ho aperto È il tuo canale È il mio Eh vabbè Ho aperto E c'era il foglio illustrativo Il foglio illustrativo Incredibile Dovano essere in piccole dosi Incredibile Falle vedere E poi vediamo Ma dai guarda che figata Sembra carbone vegetale un po' Non so cosa sia Il carbone è vegetale Le pastiglie di carbone sono così Sto all'hotel da fuori Ma che figata Quelli siamo lieti da anziani È felice anche se si è spoilerata la colazione Ma vederò da vivo Sarà un'altra roba Ma domani mi sarò svegliata con mille brufoli Allora ragazzi Siamo andati al ristorante Per l'albergo di cioccolato Perché mi guardi così? Perché sei bellissimo O perché pago io? Poi Guardate che bella la mia ragazza Che offre la cena Grazie amore Buongiorno È finalmente mattino E stiamo andando a vedere Questa benedetta colazione Oh se non è abbondante Si incazza con me Chiaretta Andiamo Se non è abbondante Entra Com'è? Com'è? Cosa prendo Cosa prendi? Amore Ragazzi Non mi ricordavo di aver preso il posto migliore della colazione Ci hanno dato pure l'attestato di golosità Ma questo? Cosa? Cerco io Questo è Oddio È incredibile Ci metti la frutta Oddio Dai andiamo a prendere un po' di roba È incredibile È gigante Si assurdo Vedi che c'erano Che t'avevo detto che c'erano I salami dolci Ci sono tutte le creme Quale sono? Al gusto Tutti i tipi di cioccolato Tutti i tipi di cioccolato Questo è quello Non è T'ho filmato stavolta Questo è quello che ha scelto lei Due cose in croce Poi abbiamo tutto questo Incredibile E io ho mangiato Non so perché Vai Raga è incredibile sto cioccolato Di più Di più Diambe Com'è? Mi sto sentendo male Mangiata Ho finito tutto Siamo pieni E Com'è? Andiamo? Ho mangiato troppo Il mio regalo ti è piaciuto? Sì amo Ora Ti porterò in una palestra gigante Ora torniamo in camera Io è felice che mi ha testato Di partecipazione Siamo arrivati già a casa Dopo 4 ore di guida Ci diamo un bacino E chiudiamo il video Lasciate 100.000 like No 100.000 like E alla prossima avventura Ciao ciao Ciao